allora ragazzi visto che visto che già qualcuno mi ha detto che purtroppo porto poca roba italiana sul mio canale questa settimana volevo dedicarla magari a qualche personaggio storico della bonelli e presentandovi i primi dieci numeri del persona dei personaggi bonelli quindi porteremo di land dog porteremo nata never e poi e poi vediamo cosa portare quindi sono i primi due porteremo questi poi poi vediamo volevo parlare di ragazzi non parlo di fumetti italiani li parlo quando ho veramente qualcosa da dire per semplice motivo che che dopo un po altrimenti il canale mi siamo non non per per niente ma noi il nostro amore per il fumetto italiano è diventato quasi un odio cioè nel senso i video vedo che quelli che vanno per la maggiore sono i video di dissing cioè inculiamo qualche qualche fumetto storico bonelli tanto ci va sempre bene parliamone male così facciamo ascolti non è non è il insomma non è l'idea del mio canale non è quella di portare dissing a un personaggio di solito quando quando leggo entro leggo una storia una storia bonelli a caso a volte la prendo a caso noi i bonelli li prendo perché l'ho letto per anni e non sono uno che segue una serie continua l'ho fatto con nata never per tanti anni se non mi piace è inutile che la vengo a dire ai ragazzi no a voi insomma a voi lettori per il semplice motivo che i miei gusti possono sono completamente diversi da altri quindi ci sarà sicuramente qualcuno che quella storia a quella storia non è piaciuta insomma e quindi quindi cosa cosa mi serve non mi va di urlare distruggere un lavoro perché fa schifo si ce ne sono tanti in questi seriali prodotti che non sono un granché per i miei gusti però insomma perché portarlo per fare mille iscritti in una settimana no questi nostri canali quello fanno perché faccio dissing verso un fumetto e poi quel quel video mi muore lì era giusto era giusto l'attenzione dell'urlo o di di sfogo di vari lettori per scrivere stupidaggine sotto preferisco evitare ok e quindi mi porto semplicemente quello che mi piace no quello che mi piace leggere se se un numero insomma faccio un esempio samuel stern a un certo punto mi piaceva lo interrotto perché come gli altri bonelli se c'è ancora da acquistare se se vedo giunge un guarda leggi bebe leggi un numero di questo numero di samuel stern perché stupendo vado in indicolo lo prendono ma lo tratto come come un qualsiasi bonelli cioè dopo che ne leggi un po insomma 66 che poi diventano episodi sporadici episodi che puoi leggere o non leggere quindi classica lettura d'accesso io la chiamo no la prendi passi edicola e ti leggi l'albo naturalmente nei corsi degli anni ho recuperato di queste storie vecchie non so i primi 100 mi piace averli la leggerli poi è arrivato comunque l'era digitale e tutto il resto faccio che leggerlo tranquillamente in digitale ecco tutta la roba vecchia naturalmente la roba che esce nuova in edicola mi piace andarla a prendere appunto passare come faccio con nata never spesso l'ultimo a l'ultimo numero mi piace passare dicola quando mi consigliano quando vedo qualche canale che mi consiglia magari che che parlano di nata never vado entro e me lo prendo l'albo e me lo leggo tranquillamente qualche storia la tengo qualche storia la regalo e amen passiamo quindi al dylan dog io di dylan dog ho fatto questa serie cartonata anch'io quindi parliamo un po di dylan dog oggi anch'io mettiamo in ordine anch'io negli anni 90 non mi faceva impazzire no andare a prendere in edicola lei stampe con su scritto mi sembra seconda terza ristampa nell'angolino qua no a un certo punto ad un certo punto praticamente quasi metteva si metteva la scritta seconda ristampa terza ristampa la bonelli e insomma io lo trovo veramente squallido graficamente io facevo il grafico quindi certe cose mi davano fastidio quindi il dylan dog avevo iniziato a leggerlo perché un amico lo diciamo lo collezionava il fratello in realtà io era il ragazzino e ho iniziato a leggere dylan dog il primo fumetto è realmente serio no fine anni 90 prima leggevo topolino eccetera prima dell'avvento dei dei mangi eccetera eccetera e quindi niente cioè sono rimasto affascinato dal dylan dog anch'io quindi negli anni 90 c'è dylan dog è dell 86 ci erano usciti già un po di numeri quindi avevo una biblioteca dal mio amico insomma da poter fermarmi andavo da lui nello studio e ne leggevo un albo poi poi naturalmente ho iniziato ad acquistare nata never e il dylan dog hanno uscite le varie ristampe ho accumulato questa che è del faccio vedere anche le prime dieci copertine facciamo questa cosina delle dieci copertine bonelli ogni volta che vi presento un numero del 1996 questi sono sono albi che si trovano ancora questo numero qua l'ho trovato a un buon prezzo anche ancora qualche anno fa 4 euro ecco però è un cartonato bellino insomma uno dei primi cartonati di questo questo esperimento non che si si faceva con dylan dog e non c'era la bruttissima scritta qua ristampa c'è questa collezione box voi sapete quanto fanno cacare quando si inizia a mettere questi tacconi no all'improvviso questo è la copertina del primo numero di dylan dog poi vi dico anche il mio preferito tra questi primi dieci scrivetemelo anche voi il preferito tra i primi dieci numeri ai ragazzi di dylan dog l'alba dei morti viventi poi abbiamo poi abbiamo al secondo secondo numero il famosissimo jack lo squattatore all'epoca questi venivano 44 mila lire che corrisponde ai quasi due euro nostri poi abbiamo le notti della luna piena facendo tutte le dieci copertine poi il fantasma di anna never bellissimo dieci numeri sono fantastici ragazzi leggeteli io dico non avete paura anche di leggerli in digitale questi numeri io vi invoglio a leggere gli ultimi numeri andate all'edicola comprate eccetera ma questi numeri insomma dopo 400 numeri non state lì a penarvi a cercare la copia che magari non sono neanche più in produzione alla bonelli ecco andatevele a leggere in digitale poi quando ci metteranno anche il digitale in una forma onesta la bonelli non voglio saltare questa cosa che questa cosa che stanno facendo sul digitale abbonamento a 13 euro al mese mi sembra una cosa esagerata ripeto prodotti che si trovano me la metti come fanno la storina con col diabolic me la metti a un euro altrimenti la pirateria continuerà ad esserci nel digitale comunque questi primi dieci numeri sono da leggere gli uccisori un altro questi sono tutti tutti numeri famosissimi di di la bellezza del demonio guardate anche le bellissime copertine poi abbiamo la zona del crepuscolo ok abbiamo il ritorno del mostro poi abbiamo alfa e omega e per ultimo attraverso lo specchio tutti i titoli famosissimi di land o quelli che hanno fatto un pochino no la storia di di land o questi primi numeri diciamo primi 70 sono sono quelli più riconoscibili quelli dove ancora faceva dei grossi numeri di land o ok niente da dire che vogliamo parlare del primo numero forse ne ho già parlato tempo fa un di dire che è un horror oggigiorno di land o che un pochino superficiale già il primo numero aspettatevi zombie ok si rifà molto a quelli a quello che sono i film di romero dell'epoca no al primo zombie ma quello che trovo trovo bello in questi land o che lo trovo potrei definire un horror romantico vediamo se trovo la scena che più mi rimane impressa non chiedetemi perché è dei protagonisti che scappano in bici qua c'è diamo una scena vedete una scena di loro in bicicletta è una stupidaggine però ovviamente sono vecchio sono romantico e lo trovo una cosa romantica questa scena inutile che vi vada a raccontare la storia ecco l'alba dei morti viventi parte con questo numero con questa pagina qua disegni angelo stano ideazione soggetto e sceneggiatura tiziano sclavi scusate copertina claudio villa detto tre nomi per dire le icone del fumetto italiano soprattutto degli anni 90 questi qua insomma ve li dovete segnare qualsiasi cosa cercate di loro insomma non vi deluderanno mai sceneggiatura appunto tiziano sclavi copertina claudio villa e disegni angelo stano per finire io ho fatto vedere copertina è una cosa molto semplice insomma oltre a consigliarvele andatevele a leggere appunto anche in digitale vi faccio vedere i miei dieci preferiti scusate tra i primi dieci il mio preferito quello che praticamente me lo ricordo a memoria che è questo la zona del crepuscolo numero 7 ditemi anche voi qual è il preferito la zona del crepuscolo è stata disegnata allora soggetto sceneggiatura tiziano sclavi disegni montanari e grassani copertina claudio villa qui ecco questa è una storia no io lo ripeto sempre quando 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 un qualcosa si ripete sembra che si ripeta l'infinito no lo dico anche nei fumetti questo fumetto mi sembra un po nella zona del crepuscolo cioè quella insomma si sente si sente molto questo questo soggetto no quello di di rialzarsi vivere la vita di una giornata poi si ria ci si rialza il giorno dopo e si è si è proprio in una zona del crepuscolo la una giornata che si ripete sempre con nel tempo non cambia mai no sembra sempre di aver di stare vivendo la stessa giornata e quando trovo un fumetto che a volte mi faccio anche l'esempio quando lo trovo un fumetto che mi sembra in qualche modo che si è bello però mi sembra ripetitivo qualcosa che si ripete no è un po ho fatto l'esempio di samuel stern è un fumetto bello che mi è piaciuto però siamo sempre in una zona del crepuscolo sembra che sembra che ci inizia una fine poi c'è un rinizio c'è una fino all'inizio e mi sembrava proprio di di avere insomma questa immagine siamo esterno la zona del crepuscolo di svegliami e trovarmi a leggere sempre la stessa storia ok ragazzi questi video voglio fare sempre breve ma la voglia di parlare c'è sempre molte volte mi accorgo anche ti dico anche delle cose inutili ma è anche giusto ascoltare le cose inutili perché possono essere inutili per me ma potrebbero essere importanti e fondamentali per voi scrivetemi ditemi voi quali sono i dieci numeri che vi piacciono di più se non l'avete mai letto andatevegli a leggere vi ripeto anche in digitale perché sono numeri ormai esauriti si trovano al mercatino ma se non volete farvi una ricerca a bonelli non penso che vi ammazza perché un comparto comunque digitale ancora non c'è e soprattutto non ce l'ha messa a disposizione quindi non vi spaventate e non mi venite a fare sempre la solita storia io preferisco il cartaccio anch'io preferisco il cartaccio ma oggigiorno mi è anche comodo la scan ok ciao ragazzi alla prossima grazie a tutti grazie a tutti